Herber Kilpin è stato intanto il fondatore del Milan, che è stata la passione della mia vita. Ha insegnato il calcio in Italia, forse il padre del calcio italiano. Oggi è il centenario del fondatore, tu che sei il Milanista, di Robin Hood and me. So it was here on the 16th of December 1899 that Herbert Kilpin brought together all of his fellow collaborators, founder members of the Milan Football and Cricket Club. He said to everyone present, our colours will be red because we will be the devils and black because of the fear we will strike into the hearts of our opponents. Ladies and gentlemen, present to you our founder, Herbert Kilpin! Grazie! Grazie!